Il 13 e il 14 ottobre vi aspetto insieme ai colleghi volontari della protezione civile in piazza Fosserdeatine nella campagna nazionale di sensibilizzazione Io non rischio, volta ad informare sulle buone pratiche di protezione civile. Questa campagna va a sensibilizzare ed educare i cittadini e tutti i volontari e tutti quelli che parteciperanno a questa iniziativa sulle buone pratiche di protezione civile contro il rischio sismico e il rischio alluvione. Quindi vi aspetto, mi raccomando, sabato e domenica prossimi 13 e 14 ottobre in piazza Fosserdeatine. Io non rischio, e tu?